Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Oggi per la prima volta vado a fare un video unboxing. Vediamo cosa c'è arrivato da spesa sicura. Ecco, adesso ve la faccio vedere nel dettaglio. Allora, il riso per minestre e supplì. Altro riso per insalate e risotti. Lo zucchero. Le azolette glassate. Le fogliette. I cracker. Il pan bauletto. La carta igienica. I faccioletti. Le fette biscottate. Pari tipi di pasta. Le lumachine. I cannerossetti. Gli zitti tagliati. Zitoni tagliati e penne regine. Le pennette di mezzani e le penne zitti rigate. Gli gnocchi e i fusilli che Giorgia adora. La passata di pomodoro. E lo scottex. Come vedete ho lasciato questi per ultimi perché, come c'è scritto sopra, erano in omaggio. I galletti. Sto acquistando due prodotti a scelta tra mulino bianco biscotti, fette e merende. Io ho preso due pacchi di fette biscottate. Invece questi acquistando due confezioni di pane in mulino bianco. Me ne hanno mandati due perché ho preso tre pacchi di pane bianco, pan bauletto e una confezione di cracker. Ma ci sono sempre moltissime offerte tipo queste. Sia per quanto riguarda il cibo che per quanto riguarda anche i detersivi.